L'Università di Milano Più di un terzo dell'anno abitavamo. Era la nostra gioia. Già Villa Chigi, che era molto bella, qualcuno mi ha detto ma perché non tieni Villa Chigi? Ma che ci faccio con Villa Chigi? Castel Fustano, sto nel mio paradiso. Villa Chigi doveva andare al Comune perché abbiamo fatto un accordo che abbiamo firmato. Metà era rotizzata e metà la villa compresa andava al Comune di Roma. Poi il Ministro Togni ce l'ha bocciata. Era un gioiello, sì. aveva 56 console intarziate. Poi tutte le sedie, anche i mobili che abbiamo qua adesso su sono rimasti più semplici, però sono tutti quanti fatti allora da questi artigiani francesi perché lui era stato nunzi a Parigi. O forse anche, non so lui, lo sio sicuro, il delegato ad Avignone perché Avignone è stato dominio del Papa fino alla rivoluzione francese. e poi siamo nati noi cinque dove siamo stati sempre. Quindi abbiamo vissuto sempre praticamente in campagna. Ma per me quando nel trasferimento sono andato per un certo periodo al centro stavo a Vicolo Margana mi ero messa a posto un appartamento ma non ce la faceva stare. mi mancava l'aria. Sono venuto a Castelbusano e qui sono rimasto. Quando nasco io, la mia famiglia c'era mio zio che era il primo genito che aveva due figli, un massimo una femmina ormai grandi perché mio cugino era del 94. Poi mio padre si è sposato tardi e ci ha avuto sette figli. Io sono il quinto e sono nato nel lontano 1929. vivevamo una parte dell'anno qui e una parte a Roma, a Villa Chigi, a Piazza del Foglio. Poi con la guerra siamo usciti, siamo andati a Roma a luglio, a settembre, è stato 8 settembre. La casa è stata occupata dai tedeschi, poi dagli americani e in definitiva sono tornato ad abitare qua, fisso del 1960. si andava a cavallo, qualcuno andava a cavallo. Poi c'avevamo una schiera di somari, di somarelli in cui tutti quanti andavano col carretto o qualcosa. e così molto tranquillamente andavamo a scuola ostia. Il nostro posto preferito era questo. Quando ci portavano via era sempre un grande dolore. E secondo, delle volte passavamo a Natale qua, delle volte a Roma, secondo non so. Era stabilito dall'alto, noi dovevamo solo seguire. E poi l'estate si andava, prima andavamo alla Riccia, al palazzo della Riccia. Ho studiato a mio zio. Poi mia madre ha litigato con la nipote. Prima faceva la padrona di casa, la Riccia. Poi è venuta la moglie di mio cugino e l'ha sprotestata. Siamo andati via dalla Riccia. Poi mio padre ha avuto la prestigione idea di costruirsi una carissima casa a Terminillo. Dove ci siamo veramente annoiati per tutta l'infanzia. Grandi passeggiate. E si vedeva dalla nostra casa, era in cima all'anello di Campopologna. E mio padre era tutto contento perché da fotografo si vedeva dal Gran Sasso, dall'Adriatico fino a Tirera. E lì sopra mio padre si costruì questa casa ultramoderna perché lui dice che era stufo di rompere a Palazzo Chigi per lavarsi la faccia la mattina dove rompe il ghiaccio con la bacinella. E allora acqua, corrente, caldo e freddo in tutte le camere, termosifoni. aveva fatto una casa e aveva fatto un vetro paroramico che era sei metri lungo e tre metri alto. Lo vedeva dal Gran Sasso a Roma. Mussolini con la Petacci stavano giù e la macchina le aspettavano. A un certo punto tutti quanti alla finestra. Ogni famiglia aveva un poliziotto. Allora Mussolini sciavano a torso nudo. Poi torna su, a tutti gli dice, facciamo un applauso. Ma che appena ho fatto, mai siete matti a fare applauso. Non finiamo di dirlo. Mussolini si gira verso un albero e fa pipì. Allora fu chiamato l'albero di Mussolini. A un certo punto della mia vita, con due miei professori universitari con cui stavo facendo la testa di laurea, facciamo un partito, il Libero Movimento di Unità Nazionale. E cominciamo a girare la provincia e le cose. E andiamo nel covo di Andreotti, che è frosinone, dove c'era un certo, un suo tirapiedi con cui aveva litigato, che si chiamava Mario Culla. E allora dovevamo presentarci e fare le liste. Lui doveva preparare le liste e noi dovevamo poi ratificarle. Andiamo a 24 ore dalla consegna delle liste e non si vedeva. Andiamo, abitava a Torre Caglietani. Torre Caglietani è un paesino vicino a Frosinone, in alto sulla montagna, con tutta una strada a curve per arrivarci. Arriviamo là, io e questo mio amico, dico, cerchiamo il signor Culla. No, il signor Culla sta alla sede della democrazia cristiana a fare liste, alla sede della democrazia cristiana. Noi stiamo qui contrari e poi prendiamo la macchina, andiamo alla sede di Afrosinone, alla sede della democrazia cristiana. Dico, vorrei parlare con il signor Mario Culla. Ah no, dice, stai a riunione, chi se ne frega. Io scanzo, entro, dico, senti un po' Culla, alzate un po', via qua che parliamo. Che stai a fare qua? Se tu gli stia a fare la parola. Ah, ma sai, tuo cognato si è presentato nelle liste, ma chi se ne frega. Io gli ho visto che ci vengo apposta, contro, e te mi dici che c'è mio cognato. Allora, diciamo, fammi finire la riunione e poi ti aspetto fuori. Vabbè, usciamo, siamo dieci minuti, abbiamo il caffè, torniamo. Culla, no, Culla è partito. E se ne è andata. Era fuggito con una topolino giardinetta. e io c'avevo una orea. Gettiamo l'insegnamento su per la salita. E così. Questa era cà. Arriviamo alla porta del paese e lo blocchiamo. L'abbiamo, l'abbiamo menato come una zampogna. E il signor Culla, uno leggeva e l'altro menava. Ma il giorno dopo siamo andati coi manifesti dicendo ci volevamo presentare. Però quel traditore, mascalzone di Culla, ci ha tradito e non l'abbiamo voluto male. E lì finisce. Dopo un po' di tempo a casa di amici incontro Andreotti. E poi dici, io so tutto, cosa? Culla, sì, culla. Si ricordi, si ricordi che il peggio non è morto mai. E io infatti vostra eccellenza è diventato uno dei meno peggiori. E ho offeso da morire. Allora, al tempo di Rebecchini, gli è venuta una bella idea di fare il circuito automobilistico in mezzo alla pineta. A prescindere dal fatto che c'è i 30 metri di visibilità e poi finisce perché vanno dietro i pini e non vedi più niente. Di corsa, di notte, tagliavano gli alber. Tagliato parecchi ettari di pineta importante, monumentale, bloccatissima. Vabbè, e hanno fatto questo circuito. Poi l'hanno inaugurato, grande inaugurazione. Hanno partito l'automobile. A un certo punto Villoresi è uscito di strada, ha battuto contro un albero. E lì è finito il circuito. Allora l'hanno fatto circuito ciclistico. Anche quello, vado a vedere uno che passa, vedo, passa. Poi dopo un quarto, dopo mezz'ora lo rivedo, passa. Non c'è visibilità niente. È assurdo. E hanno abbandonato così. Poi hanno levato addirittura l'asfalto. È rimasta una strada così. Questa è l'Italia. Lo disse a Rebecchini. Ah, ma abbiamo preso perché siccome la via del mare arrivava fino a San Paolo, passava sotto, no? E c'erano dei vini piantati. Ma abbiamo ripiantato dei vini della strada. Dio, ma che ci fa? Ammazza e abbattuto 3.000 vini, ce ne mette 50. Nella tenuta si era accampato. Si era stabilito un gruppo di pescatori di Minturno che stavano da questa parte del canale, che era nostra. Quando poi il comune ha comprato, l'hanno fatto col borghetto, di là sono trasferiti. E siamo rimasti amici. Andavamo sempre in barca con loro. Quindi così, a pescare così. E ancora ci stanno i figli, i nipoti. Quindi ogni anno poi si faceva la festa. Questo gruppo di pescatori faceva una festa e veniva al castello e facevano tutti questi giochi. una merenda. E c'è questo quadretto che lo rappresenta. E poi c'aveva una prozia che poi gli ha regalato a mio signore e poi era da mio padre. Ma era andato ai borghese. mio bisnonno aveva sette sorelle. Mio nonno cinque, tutte sposate. Quindi abbiamo due mila parenti. Adesso un po' allontanati, ma insomma... è una casa sempre di gran filmina. Mio padre era ornitologo, fotografo. era un po' uno scienziato di tutto. Un'autodidatta. Perché a un certo punto si stufò da andare a scuola e studiato da solo. Se no non parlava, se no non diceva niente. Io per esempio, tutta la storia della nostra famiglia tedesca, russa, non ho saputo mai niente. Non parlavano, non raccontavano. Strano perché normalmente, insomma, io con i figli parlo, dico, racconto. E loro erano molto riservati. E quindi anche loro saranno contenti qua. Siamo stati cresciuti molto tranquillamente e borghesemente. non abbiamo senza mai strafare. Poi mio padre andava in macchina ad andare a Roma. E noi stavamo sempre qua. È stata un'infanzia felice. E Castelbusano è il mio posto adorato. Per cui nel 50 sono stato in America. un anno perché abbiamo fatto una esposizione. Mio padre è stato incastrato a far presidente. Da presidente c'è andata a rimettere un sacco di soldi. E però avevo trovato anche impiego. Però ho preferito tornare qua. E tutto sommato... Sono stato bene ma... Ho fatto male. Ho fatto male a tornare. La casa era stata... Durante la guerra era stata occupata dai tedeschi con lo sbarco di Anzio e poi dagli americani come alloggio come stato maggiore come tutto. E quando noi siamo venuti abbiamo trovato... C'era più niente. Non c'erano più pavimenti non c'erano più scale non c'era più niente. Un vetro. C'era più niente. E nella galleria c'era una camerata di americani con tutti gli odi messi noi sulle carte geografiche a pensare di borrarci la roba che questa era. E poi nel 50 mio padre aveva cominciato a rimetterla a posto. Aveva rifatto... Sistemare le pitture e ha rifatto un po' tutto. E praticamente quasi come adesso. Poi sono rintervenuto io negli anni per sistemare per sistemare l'elettricità e questa roba. Siccome mio padre era comandante delle guardie nobili era un territorio non proprio extra extra Italia però erano rispettati. E allora allora col mitra hanno sparato dentro poi hanno sfondato il portone e poi dalla terrazza buttavano giù le bombe. E' venuto questo tedesco che ha raccontato che è stato lui a dare l'ordine di non far saltare la casa. Perché doveva saltare anche la casa. perché con lo sbarco di Anzio per impedire agli americani di passare il Tevere hanno distrutto compreso il ponte sul Tevere. e pare che si racconta che il colonnello che comandava questa zona ha fatto saltare il ponte della Scafa che era l'unico posto dove potessero scappare gli tedeschi perché se no dovevano andare alla Magliana e quindi ha bloccato tutta questa uscita. E pare che sia stato fucilato qui davanti. questo è quello che mi raccontano io non ho assistito. A Villa Chigi c'era stato un reparto della divisione Piave che era stata era rimasta dopo l'8 settembre perché era come polizia di Roma. Poi quando fecero la Repubblica vennero i tedeschi lì e anzi non presero nessuno perché prudentemente si dileguarono tutti. C'erano dieci giardinieri che con i rastrelli in mano in mutande che facevano insomma non ne acchiapparono nemmeno uno. Però erano rimaste tutte nascoste le armi mitra quindi ho passato i nove mesi dei tedeschi pulendo sistemando fucili mitra tutto. E poi mi preparavo per partire qualcuno faceva la spia e mi bloccavano nei momenti i ragioni mi bloccavano. e poi dopo avevamo una banda di ragazzini che doveva andare a combattere per la monarchia c'era c'era un appuntamento sulla strada fuori casa e avevo una pistola cofondo in conto ma mia madre stava scrivendo in un'anticamera delle partecipazioni di matrimonio di una sorella si affaccia e mi vede tutto cambiato perché poi quella sera avevo detto rosario allora avevano capito che ero troppo buono ci doveva essere qualche cosa dico e là sono andato mi sono cambiato la cameriera mi sono arrivato i vestiti mi sono messati scendendo mia madre mi vede cambiata mi guarda a telefonare un amico si affaccia alla finestra e mi vede che mi avviavo perché da casa lì ci sono una trentina di metri un urlo è svenuta anche se è morta cazzo questo casino avevo lasciato avevo lasciato un biglietto una cretina dove vai che mi hanno domandato i genitori se preferivamo andare a scuola Ostia andando a Roma la primavera che si stava qui andando a Roma sempre in treno entrando naturalmente oppure preferivamo il contrario venire l'inverno a Ostia e poi per stare qui in primavera abbiamo scelto Ostia però si partiva da Piazza Vescovio alle 6.25 poi ci pigliava alla stazione il tram L7 poi il treno per Ostia insomma poi arrivavamo dalle 6.30 arrivavamo alle 8.30 arrivavamo a scuola e altro ritorno lo stesso era un po' faticoso e poi quando era d'inverno che venivamo venivo mi portavano ero piccolo a 10 12 anni a caccia qui a Colombacci con un amico di mio padre e spazzava alle 5 e invece che alle 6.30 ha messo a Santa Maria degli Angeli e poi a caccia il pusano a caccia quindi era una settimana stressante però molto divertente io faccio solo le medie perché l'8 settembre è venuto nel 43 è stato l'ultimo anno erano i professori del Virginio distaccati qua e c'era fino alla terza liceo e poi poi non c'era più niente non c'era più niente non c'era più niente non c'era più niente fino agli anni 50 andavamo a cavallo io e mia sorella perché abbiamo cominciato ad andare a cavallo a 6 anni ma non a non a Caserfusano ma a Polito è una villa catena dove mio zio Torronia aveva una bellissima casa che era stata dei Conti una casa del Quattrocento che è stata poi costruita e tutto è recintata a 80 ettari da tutti i prigionieri della battaglia di Gutenberg che sono tutti ancora seppelli di là e Poli è stata un'altro è stata un'epoca felice quei due anni di Poli sono stati me li ricordo ancora come adesso e lì io e pure le altre insomma gli appassionati di cavallo erano mia sorella immacolata e io e qui sì quando andava a caccia papà ci portava mi portava dietro avevamo la posta le anitre nelle piscine la posta la beccaccia e poi gli andavamo i boschi non sono riuscito mai a sparare l'ho sparato qua perché mio padre quando avevo dieci anni si è venduto la proprietà siamo rimasti a becca asciutto molto male molto male è stato un grandissimo di caccia ha venduto la proprietà perché perché Mussolini aveva fatto la doveva fare l'esposizione universale ha fatto la via imperiale che ha attraversato la proprietà è arrivata al mare e allora ha imposto che si rifacesse una nuova bonifica su una vecchia che già era stata fatta e che era stata spesa allora 4 milioni per farla doveva farne un'altra mettendo una casa colonica una casa ogni 5 ettari su 1.300 ettari era una cosa impossibile perché non sarebbe mai rientrato aveva fatto una bella rivista faunistica sì era membro del consiglio internazionale dell'agricoltura e del consiglio internazionale della caccia aveva fatto delle invenzioni dei bozzi fatti in certo modo mia madre era ispettrice nazionale della maternità e infanzia andò pure da Mussolini per far sedare al terreno perché le monache le lauretane si avevano vicino al Colosseo quel luoto che c'è adesso lì c'era questo convento dove c'erano queste dame che di beneficenza per la bonifica di Roma l'hanno buttato per aria allora lei è andata da Mussolini dopo andare al terreno Mussolini gli hanno dato e hanno fatto a via di donna Olimpia hanno fatto la sede mio padre si è sposato prima una torlonia una figlia di Leopoldo che era Maria Concetta e che è morta in un incidente d'automobile tornando a Castelfusano l'inverno poi sposò mia madre che era dalla prima ha avuto due figlie e dalla seconda cinque di cui solo io maschio mia madre era Anna Torlonia figlia di Leopoldo che era il primo genito della famiglia e che era senatore del regno e che è stato sindaco di Roma negli anni 1886 e che fu mandato via da sindaco perché fece gli auguri al Papa allora era uno scandalo adesso siamo abituati a ben altro mio nonno è andato all'incoronazione aveva uno zio cardinale Flavio e sono andati all'incoronazione dell'imperatore Alessandro II e sono andati in carrozza da Roma a Mosca che hanno messo credo un mese molti tedeschi facevano ufficiali nell'esercito dello zar e c'era questo uno di questi era il è stato il comandante delle truppe russe del nord e ha impedito a Napoleone di entrare è stato è un errore nazionale russo e ha impedito a Napoleone di entrare a Pietroburgo lì il figlio ha conosciuto questa Bariatischi il Bariatischi in cui Cioardello era vice rete del caucaso e il comandante delle forze russe che ha occupato il caucaso l'album lì quando ha compiuto 100 anni il primo telegramma è dello zar poi c'è anche il... anche il... di Guglielmo II di Germania gli ha scritto un telegramma con tutto che erano in guerra russi e tedeschi mio padre è rimasto molto attaccato a questi molti parenti amici russi dopo la rivoluzione sono stati qua e mio padre girava molto dell'ambiente anche della chiesa ortodossa e... le ultime zie di mio padre sono morte nel 46 stanno sepolte al cimitero degli acattolici a San Paolo questo era... per l'immaginetta di morte e la preghiera che ha scritto Pio XII che era molto bene a mio padre mio padre si faceva anche rispettare le guardie nobili non potevano accettare degli incarichi senza domandare al comandante allora fece uno dei... fece un... ambasciatore del non so che paese e allora... papà fece un ordine del giorno le sente Marco Antonio Facelli insonerato da servizio per portare la rivista fino a chi sarà ambasciatore allora il papà ha fatto chiamare a come mio nipote e papà gli ha detto Santita io seguo il regolamento che avete fatto voi vabbè vabbè tutte le fotografie delle campagne russe poi c'è delle fotografie sulla spiaggia con il re e la regina perché loro avevano Castelporziano avevano preso in affitto la caccia a Castelporziano e quindi si vedevano normalmente a Roma no perché i ghigi erano neri ma insomma i grigi diciamo perché mio zio è stato il primo della famiglia a morire per la patria italiana che è morto nella battaglia di Adua e quando è partito pensi ha domandato la benedizione del Papa e gliel'ha rifiutata perché partiva per l'Italia e sono sulla spiaggia di Castelporziano o Castelporziano non so ed è il re e la regina e papà tutta gente che credo non si sia mai messa al costume da bagno questa è mia nonna Antonietta fotografata da mio padre con un nuovo sistema che avevo rinventato nel 4 i fratelli Lumière questo è Villa Ghigi con quel bambino Eudone incisa e mia nonna e l'altra non so chi siamo questa è Russia questo è il terremoto a Napoli a Vesuvia 906 credo il palazzo il palazzo lo avevano venduto già nel 16 il palazzo è stato venduto perché il terremoto di Avezzano aveva smosso le fondamenta che sta su un fiume il palazzo e ci hanno dei fondamenta che hanno ceduto allora pare che ci fossero delle enormi grepe costava molto a rimetterla a posto sarebbe sempre costato meno che tenerselo è meglio tenerselo anche a variato e poi c'avevano una biblioteca che è solo quella lì che poi Mussolini regalò al Vaticano nel 23 nemmeno quella conciliazione prima e adesso sta in Vaticano il maresciallo del conclave è un titolo e funzioni perché il maresciallo di Santa Romana Chiesa quando moriva il Papa metteva la sua bandiera al portone di bronzo andava a abitare nell'appartamento della loggia del maresciallo si chiamava guardando San Pietro l'ultimo sul colonnato di destra quello era il suo alloggio è stato sfrattato da Paolo VI erano cambiati i tempi erano andati leggermente a sinistra nel Vaticano e poi fu abolita anche la Guardia Nobile mio padre però è morto con Pacelli ancora è morto nel 53 e invece era del... non so se Giovanni XXIII o Paolo VI hanno levato il titolo di Nobile la Guardia Nobile si vergognava che fossero Nobile abbiamo Guardia d'Onore e poi dopo un anno doveva la eliminata e così siamo usciti il titolo è teoricamente rimasto infatti io dico che sono un maresciallo in pensione grazie quando c'è qualche colazione un pranzo importante ma una volta ogni tanto facciamo la tavolata l'ultima l'abbiamo fatta il battesimo della figlia di Flavio Leonilla è venuto il re di Spagna al fidanzamento della infanta con Alessandro Tordonia c'è stato il pranzo di fidanzamento qua però non sapevano dove metterlo perché era stato mandato via dalla Spagna due anni prima e allora hanno messo lì c'è la Spagna l'hanno messo di spalle alla Spagna l'estate stavamo qua fino a luglio perché tutto un pezzo di praticamente del pezzo di Castelfusano dato al comune c'era solo lo stabilimento della Pineta adesso la vecchia Pineta poi non c'era niente e l'ultimo pezzo gli ultimi chilometri c'erano le reti per prendere per catturare le guaglie per ricanellarle e lì c'erano degli uomini che lavoravano che preparavano un capanno e stavamo lì andavamo a ammare il re quindi praticamente fino al 43 è rimasto quel pezzo come se fosse ancora nostro ci andavamo solo noi tutti i boschi che era tutta la Pineta e quelli dietro erano 2.000 ettari di bosco e quelli dietro furono tutti tagliati tutto costruito in abusivo poi è stato tolto il vincolo perché hanno detto che ormai non c'era più niente da fare dopo di che ci hanno dato l'autorizzazione al campeggio che ha funzionato 42 anni ogni albero che cascava era rimesso hanno detto che era una rotizzazione abusiva ci hanno confiscato confiscato il campeggio e sequestrato tutto dopo 10 anni dopo 10 anni la corte d'appello ha detto che non potevano nemmeno fare la causa perché i tempi erano passati e non c'era nessun motivo per cui potessero fare una confisca del genere una perdita di decine e decine di milioni era un campeggio era un campeggio di 20-50 e ancora non l'abbiamo riaperto ma non ci hanno martorizzato forse perché avevamo un nome che dava fastidio i sacchetti hanno piantato la pineta c'erano delle vigne prima e questi credo che con molto amore l'hanno dilata su i sacchetti Marcello che poi morì e il cardinale Giulio il castello di Fusano era più o meno l'Infernetto adesso poi non so perché gli hanno messo a 1.300 ettari c'erano 2.000 nomi meglio di Infernetto l'hanno chiamato Infernetto Palocco era degli addobrandini era la macchia di Palocco che poi hanno tagliato quindi gli addobrandini hanno venduto del 36 all'immobiliare e poi dopo la guerra hanno fatto la lottizzazione l'altro pezzo era l'axa che era di mio padre e che aveva regalato a questo avvocato Trombetti che aveva fatto da mediatore scalera a comprare e gli regalò 200 ettari dove lui ci ha fatto l'axa e poi purtroppo hanno tagliato tutti i boschi pensi quello che hanno levato dopo la guerra Anzio Anzio Torre del Padiglione Campo Morto tutto 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 bosco c'è rimasto niente le paludi le prime lo stagno d'ostia sono stati ravernati nell'83 che hanno bonificato tutto lo stagno e mio padre ha bonificato ha bonificato quello quello che era rimasto erano un centinaio di ettari di palude che era la caccia preferita di Umberto I era un posto meraviglioso giù c'è un quadro di carlandi della palude e della palude arando poi mio padre ha trovato un elefante antidiluviano ogni tanto veniva fuori un molare allora mio padre allora non è un caso ci deve essere un elefante qua l'intero hanno scavato e hanno trovato l'elefante in piedi praticamente quasi tutto meno che la testa e le zanne era quasi intatto ma ce n'erano intorno a Roma poi l'ha messo in una camera in uno dei casali poi sono arrivati i tedeschi gli hanno fatto saltare certo che era un paradiso del resto andavamo fino al semaforo sulla Cristoforo Colombo il semaforo per la strada di Acinica fino a lì arrivava allora poi c'è non so quando era stata comprata ci trova Sigismondo Chigi del Settecento ci trovò un deposito di marmi pregiati tutti blocchi interi perché Ossia Ossia è arrivata la malaria a metà del Quattrocento dopo Cristo e fu abbandonata in pochissimo tempo e allora apposta è rimasta tanta roba perché la gente scappò e rimase così e lì qui a Torre Boacciana c'era un deposito di marmi pregiati una parte sono stati dati a San Paolo per ci fu che è successo scoppiata la polveniera che le ha dati per fare tutte le vetrate di San Paolo sono state rifatte con quei marmi e poi l'hanno permutata mia nonno l'ha permutata con questi ettari a Ossia dove c'era il deposito di legname l'imposta della legna siccome l'unica strada era questa per arrivarci la portavano là la mia famiglia di cacciatori poi mio padre alternava perché andava a caccia però inanellava faceva l'ornitologo e poi aveva fatto una bella collezione di uccelli del Lazio imbalsamati che andavano dal 900 al 950 e che sta al Giardino Zoologico di Roma che poi pare che l'avessero levato perché dice che era un un percorso sorpassato che non serviva più l'avevano messo pari in cantina adesso mi dicono che l'hanno ritirato fuori insomma il Giardino Zoologico fallì perché ci venne la spagnola non c'è andava più nessuno a vedere gli animali per due anni gli davano da mangiare senza e l'ho preso il comune l'aveva fondato il mio cofondatore c'era un fratello di Sidney Sornino che era nell'amministrazione e poi lui è stato non so fino al 43 poi è stato depurato e ha lasciato dove ho cacciato per 50 anni 60 anni da 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 7 8 anni fino a a che mi è successo questo casino ho cacciato ho cacciato in Siberia ho cacciato in Alaska ho cacciato in Africa ho cacciato quasi tutta Europa mi sono molto divertito e mi manca molto l'ho salutato l'ho salutato Umberto II quando è partito perché mio padre li conosceva bene perché poi stavano sempre qua e il giorno che è partito è dato a fare un'udienza dal Papa e per salutarlo e allora mio padre ha voluto esserci anche lui e allora ci ha portato tutti quanti allora siamo andati che abbiamo salutato per l'unica volta che ho visto Umberto II la riserva papà gli era rilevata nel 24 quando ha cominciato a fare delle coltivazioni di tutti gli animali perché era pieno di animali era impressionante ricordo una volta che siamo andati mio padre era amico dell'amministratore e un pomeriggio dopo una pioggia verso il tramonto dove siamo andati e una cosa impressionante sembrava di stare in Africa c'erano tutti i branchi dei cervi dei caprioli dei cinghiali dei antilopi si vedeva di tutto un paradiso era una cosa bellissima e mi è rimasta quella gita mi è rimasta tutta la vita nella mente insomma bene o male siamo arrivati a 91 attraverso duemila vicissitudini la gente che è il sole di fare di più di più di più che è il giorno che è il giorno di più niente che è lato e alle leggere di più Grazie a tutti.